e salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo episodio di FNAF 8 remaster ed in questo diciamo penultimo episodio affronteremo l'ultima la boss fight opzionale del castello di Atemise che si tratta di cosa l'ultima weapon cioè l'omega weapon scusate che comunque tra l'altro dobbiamo premere sto pulsante qua per raggiungere l'omega weapon quindi cambiamo subito lo squadro sperando che non ci sia qualche incontro ok stai aggiungiamo subito l'omega weapon sperando che non ci sia qualche incontro casuale junction ho messo l'auto assi a school però non ho fatto in tempo a dare ok dai raggiungiamo l'omega weapon questa è la boss fight più forte del gioco prima che arrivava su serio eccola lì tensione a livello A5 che poi debba essere più o meno una presentazione e non puoi fare niente perché abbiamo mezzo junction di pesate ok quindi si iniziano al video e non ho farmato non ho farmato non ho farmato le gemme auron quindi prima che attenzia dovrò farmare le gemme auron oddio magic flame coli tenizia non è male che ho messo auto protect auto assi oddio non ci credo io non ci credo se in serio e poi pensavo di essere preparato no forse ho sbagliato qualcosa che devo di essere preparato scusate sa che dovrò portare per luna invisibile e qua sto facendo parecchie tratate speravo di essere preparato mannaggia non è visibile dai dai forse magari c'è qualche speranza data break eh no adesso grazie all'invicibilità non puoi farsi un cazzo proprio iniziano a fare un cazzo proprio come luce oggi dai forse si sbranchi magari potrai anche far manli prima dell'esporto cosa iper colpo dai dimenticavo di dire che questa boss fa più di un milione di hp meno male com'è la siderale oddio guarda cosa farà ah è tipo simile l'ir the joy ma non puoi farci niente perché abbiamo oddio quando abbiamo lo status oddio quando abbiamo lo status non solo coso là ok diamo ok lanciamo aura su squall e ovviamente anche su l'inoro che non si può mai sapere che questa boss fight non è da prendere troppo alla leggera è venuto qui che ne speriamo per quella di pietra porca troia mamma mia cuore di pietra contro ci ha salvato uno che è uscito manco un cuore di pietra porca troia che bruciato e culo cuore di pietra vai ma ti sfondo proprio malissimo vai Proprio godi popolo Proprio alla Alla capo bastone Che ne dici di questo eh Riesci a sentire Il mio potere Ok basta Oddio diamogli subito Ma porca No Ok ragazzi Primo game over Sperando che non faccia altre figure di cacca Vogliamo Vogliamo subito Cerberus Meno male che avevo E meno male che avevo messo La difesa ade Non vogliamo subito Cerberus Ovviamente Vogliamo anche Carond Così Chiudiamo Chiudiamo Mannaggia Perché non mi ho rispettivamente preparato Magari Magari La bundle Potrebbe rivelarci utile Così Ti donalo Status Reflex Ma perché No dai non è possibile Su serio Su serio C'è 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 Ditemi poi se sto sbagliando qualcosa Ecco C'è prima mi è uscito Oh dai Speriamo che mi esce E sto fottuto di nuovo Mannaggia Ecco Secondo game over Ok Che dire ragazzi Secondo che muove L'ho fatta Si Proverò per l'ultima volta Secondo Se no Ok ho cambiato Comunque Membri squadra Ma se Ma se Ci proverò Per un altro paio di volte Prefiso poi Se Se no Ci riesco Mi arrendo E passo Subito La fatta Inizio Che devo dire Non so Stavo sbagliando qualcosa Forse Andiamo Cazziamo Gli subito Che posso Dovevo Subito Utilizzare Anzi Cazzo Devo non Cerchiamo Di far Cazzo In serio Ma siamo Scherzo No Ok Ma Mossa Sotto Se non riesco Sconfiggelo In cazzo Di brutto Perché Speravo Che Devo dire Se non c'è la falsa Potrei Passo direttamente Ad alpenise Che devo dire Mannaggia Speravo di essere preparato Per questa boss Ma invece Speravo Intanto faccio Cagate Speravo 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 Ecco, manda magia d'auro. Oddio. Non me l'aspettavo l'arrivo di... Oddio. Se farà tante gusche... E' una troll... Nooo. Sarebbe stato troppo bello. Perché se facciamo tante gusche... Sarebbe stato una trollata troppo etica. Sarebbe stato anche una vittoria troppo facile poi. No, perché se riesco a sconfiggerlo... Mi manca solo il trofeo per finire il gioco e poi lo riuscirò anche... Dai! Devo soltanto sperar... No, dai. Cioè, ma seriamente? Cioè, questo è un'altra sconfitta che su... No, no. Su... Su serio, no? Oh no.